Bella voglio bentornati sul RealNapoliFootball ragazzi veniamo da una bella striscia positiva cerchiamo di continuare così e veniamo da una bella vittoria sul Trap Nozospor per 1-0 con un acuto di Kicakvaraschelia. Detto questo cerchiamo subito l'avversario come sto già facendo e come sempre se vi fa piacere lasciate un like al video iscrivetevi al canale e commentate per farmi sapere che ne pensate di questa scalata verso la divisione 1 con solo giocatori del Napoli. Detto questo vediamo chi sarà l'avversario di questa puntata che è stato anche trovato subito e sarà Napoli-Manchester United. Manchester United-Napoli ragazzi andiamo ad Old Trafford per questa sfida emozionantissima sicuramente contro i Red Devils. Vediamo un po'. I nostri ragazzi stanno quasi tutti bene purtroppo Lobo non è in condizione di giocare a caciuste mediano dato che Den Donk è morto praticamente. Per il resto lasciamo tutto così. Ci hanno due mediani, ci hanno due mediani, solo tre quartista. Io vi direi che provo, provo ad andare ad aggredire un po' più alti in questo caso, alzando un po' i centrocampisti centrali anche io. Vediamo che cosa succede, non faccio diventare zero tre quartista per il momento, vediamo un po'. Ehi cazzo. Faccio diventare zero tre quartista per il momento, come dicevo. Andiamo a vedere che cosa succede. si parte Manchester United-Napoli ragazzi. Manchester United-Napoli partono loro con Cristiano Ronaldo che muove la prima palla. Attenzione palla dentro subito per Ronaldo, attenzione Nathan, c'è Maradona, che dribbling Maradona. Caciuste, Anghissa. Attenzione Skulls, Mario Rui, Arnold. Tiro di Skulls, rimpallato da Nathan credo. Attenzione dentro per Salah, prova a chiudere il maestro Salah fino in fondo. Mamma mia. Colasri-Salah, ciao, ciao Shreiko. Grazie per il follo. Becchiamo l'1-0 da Momo Salah. Caciuste, palla per Di Lorenzo. Politano prova a gestire dentro per Caciuste. Attenzione Caciuste. Prova a ragionare Caciuste, cerca Clara Schelia, che si ferma Clara Schelia. Poggia per Mario Rui, che entra Mario Rui! All'incrocio dei pali! Il maestro Mario Rui. Mario Rui, all'incrocio dei pali. Il maestro, incredibile. Attenzione, prova a ripartire lo United subito. Chiusura di Rachmani, che va da Politano. Politano cerca dentro Zambo Angissano. Riesce a prendere questa palla Zambo. Attenzione. Caciuste prova a chiudere qui su Skulls. Osime... Eh, Osime. Attenzione a Diego Maradona. Mario Rui prova a chiudere, ma Salah prova ad andarsene. Cross in mezzo qui verso Maradona, che si ritrova la palla lì con un po' di fortuna. Caciuste la mette fuori. E Angissarri finisce per Politano, che se la va a rubare di nuovo, praticamente. Ma se la dimentica. Attenzione. Un po' di confusione qui. Angissarri di Lorenzo in chiusura. E poi Angissarri verso Matteo Politano. Drevling di Politano che se ne va. Politano dentro. Anticipato da Skulls. Attenzione. Angissarri provano a ripartire loro con Caciuste. Zierischi in chiusura. Arriva anche Angissarri sfortunati qui. Attenzione Kimmich. Prova a scendere lo United. Zierischi chiude. Caciuste qui. Caciuste dentro subito per Zierischi che cerca Victor. Anticipo di Marchigno. Si incredibile. Prova a ripartire ancora con un lancio sulla fascia di Lorenzo. Fa passare questa palla. E ha ragione lui. Di Lorenzo. Palla per Rachmani. in rilancio verso Victor. Semen che prova a spizzare. Ma la pallarina è recuperata la Maradona. Nathan chiude su Ronaldo con un fallo. Niente da fare. Attenzione. Angissarri. Crossi in mezzo. C'è Ronaldo da solo. Che è in fuori gioco però. L'arbitro interrompe l'azione. E in fuori gioco Cronaldo. con Meret che può rilanciare adesso lungo. Rilancio dell'ex Meret verso Semen. Prova a spizzare. Niente da fare il maestro Mario Lui. Verso Caciuste che vede. Politano con un po' di spazio. Penetra Politano che arriva al cross in mezzo. Verso Semen che stacca. Arriva ancora a Schelia. Niente da fare. Incredibile. Che cosa ha preso il portiere ragazzi. Che cosa ha preso il portiere. Neymar. Rachmani. Vada Caciuste. Angissarri. Perde. Palla a Zanon. Chissarri. Zirischi. Prova a recuperare su Scolz. C'è Maradona. Tiro di Maradona a giro. Palla all'incrocio di Diego. Dopo il miracolo del loro portiere. Maradona a giro. Chiaramente lì non può sbagliare. Palla per Di Lorenzo. Errore di Gianni Di Lorenzo. Prova ad attaccare ancora lo United. Se ne va Neymar. Ronaldo. Che viene chiuso da Nathan. Che poi allarga subito per Politano. Scende Matteo Politano. Attenzione. Politano. Vada. Zirischi. Zirischi dentro. Ma che cazzo di anticipo ha fatto Marchinias qui. Alla dentro. Maradona. Caciuste. Adà Zirischi. Palla per Victor. Osimena. Dentro per Zirischi. Di nuovo per Victor. La parata incredibile. Politano. L'alza di nuovo. Canna. La para. Che cosa sta prendendo Canna stasera ragazzi. Attenzione. Arnold. Prova ad andare dentro. Maradona. Osimena. Ronaldo. Attenzione. Neymar. Prova a penetrare ancora con Diego. Anghissà. Per Zirischi. Dentro per Osimena. Che si gira. Victor Osimena. Osimena. Dentro per Claraschelia. La palla non passa per l'ennesima volta ragazzi. È incredibile questa cosa. Incredibile. Attenzione. Anghissà. Recupera la palla. Anghissà. Cerca Caciuste. Che va di nuovo da Politano. La palla non passa. Troppo lenti qui. Anghissà. Bell'anticipo. Zirischi dentro per Victor Osimena. Che prova ad andarsene. Victor Osimena. Che cazzo ha preso Canna ragazzi. È assurdo. È assurdo. È assurdo. Incredibile. Incredibile. Oliver Kahn. Stasera. Incredibile. Attenzione. Racamani. Prova ad andare sul primo palo. Zirischi verso Mirracamani. Che prova a spizzarla per Osimena. Che di rapina. La mette dentro. 2-2. Ventitresimo gol stagionale. Per Victor Osimena. Che raccoglie un fantastico. assist di Amir Racamani. Per il 2-2 ragazzi. Ad Old Trafford. Attenzione. Prova a ripartire ancora lo United. Ancora con Maradona. Cacius. Attesa in Cavaraschelia. Ricopera palla con Osimena. Osimena appoggia. Per Cavaraschelia. La palla non passa ragazzi. Attenzione qui. Politano prova a dare una mano. Ricopera palla. Politano. Errore però poi in disimpegno. Attenzione. Cacius. Maradona. Cacius. Ricopera palla. Finisce il primo tempo ragazzi. 2-2. Partita divertentissima. Poi abbiamo anche attaccato tanto. Anche loro. Osimena. Cacius. Natan cerca Rachmani che allarga per Di Lorenzo. Proviamo a costruire con Giannino Di Lorenzo che cerca Vittorio Simena e che allarga per Politano. Scende Politano. Va dentro da Zielinski. Canna ancora miracoloso sulla bomba di Pietro Zielinski. Miracoloso Canna sulla bomba di Zielinski. Ancora Zielinski. Rachmani questa volta va a spostarsi un po' sul secondo palo. Zielinski lo ricerca. Ancora Rachmani che la mette ancora dentro per Politano. La mettono fuori. Zielinski. Stoppa questa palla. Va al cross in mezzo. Zosimena. Canna ancora. Canna ancora. Rilancio di Canna. Verso Salah. Zielinski con la palla e cerca con la Raskedia. Che vada Zosimena che è in fuorigioco. Porca troia. Proviamo a lasciarla a Politano così. Canna prova a rilanciare lungo Anghissà. Palla per Rosimena. Si gira Rosimena dentro per Anghissà. Ricerca Vittor Rosimena. Ancora Canna ragazzi. Ma siamo seri. Ma siamo seri ragazzi. Che cosa sta prendendo Canna stasera. Ma siamo seri. Attenzione. Palla che andrà verso Vittor Rosimena. Zielinski su Vittor. Che prova a spizzarla. Niente da fare. Prova a ripartire. Lo United. Politano. Il recupero su Salah. Attenzione. Palla dentro. Lui. Caciusse. Non riesce a chiudere. E poi lui sì. E va verso Claraschelia. Errore. Però qui. Mario lui ad anticipare ancora. Politano. Cerca Zielinski. Che prova a scendere. Zielinski. Cerca Claraschelia. Che può penetrare. Claraschelia. Dentro. Niente da fare. La palla resta lì. Zielinski. Osimena. Ancora. Santissimo Canna ragazzi. Ancora. Quel santissimo Canna. Attenzione. Ancora. Racamani. Zielinski su Racamani. Che prova a spizzarla. La palla resta di Politano. Non ho tirato. Perché? Di Lorenzo. Colpire di testa. Attenzione. Caciusse. Mario lui. Si fa bruciare da Salah. Prova a recuperare Mario lui. Salah fa tutto da solo. Fallo di Nathan. Il battitore si prende un momento per riflettere e scegliere la traiettoria. Attenzione. 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 Punizione per Scholes. Che cerca forse Maradona. Attenzione. Palla verso Marquinhos. Di Lorenzo. Ora metterla fuori. Zielinski. Prova a svettare su Maradona. Mario Rue. Dentro per Anghissa. E se la sposta lì. Non si sa perché. Palla dentro. Caciuste. Attenzione. Zieninski. Rio però una gran palla. Zieninski dentro per Victor Simen. Che si ferma. Si gira. E va dentro da Politano. Male però. Attenzione. Ancora Can. Claraschelia. Prova a chiudere su Marquinhos. Se la cava nera è Davis. E poi Mario Rue. A recuperare questa palla Rue. Scende Mario Rue. Va da Claraschelia. Schelia. Riesce ad arrivarci. Quara dentro. Per Anghissa. Che va da Ozyman. Non ci credo. Caciuste. Attenzione. Caciuste. Vada Anghissa. 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 Cerca Zielinski. Quara Schelia. Prova a dribbolare. Quara dentro. Per Zielinski. La palla. Non passa. E poi Nathan. Prova a chiudere. Sussala. Nathan in corsa. Sussala. Dripping di Salah. Cora Maradona. Nathan ancora. Mario Rue. Zielinski. Cerca Anghissa. Che va da Apolitano. Si ferma Apolitano. Va dall'altro lato da Quara Schelia. La palla non arriva a Quara. Attenzione. Zielinski. Anghissa deve chiudere su Skulls. Torna Anghissa. Niente da fare. Anghissa in chiusura. Arnold mette in mezzo. La palla passa. Torna da Arnold. Però. Attenzione. Ed è calcio d'angolo. Calcio d'angolo United. Ragazzi. Abbiamo attaccato tanto. Fino ad ora. Veramente. Veramente. Assurdo. Che non siamo riusciti a segnare. Questa Anghissa. Anghissa. Questa forte. Allora. Metto il Gozielu. E io metto. Metto Maradona. Al posto di Anghissa. Maradona lo metto trequartista. Da quest'altro lato. Vediamo che cosa succede. C'ho già come da Raspadurion Fire. Ragazzi. Devo togliere Quara Schelia. Per mettere Raspaduri. Raspadurion Gong. Olivera. Al posto del Maestro. Pasqualino Mazzocchi. Al posto di Nathan. Che è molto stanco. Facciamo così. Sono tre e due cinque. Va bene così. Andiamo a finire questa partita. In questo modo. Vediamo se riusciamo a portarcela a casa. Vediamo così. Quindici minuti. Che cosa ci diranno? Attenzione. Fanno dei cambi anche loro. Provano ad andare. Cross in mezzo. C'è Marchinius. Ma c'è anche Meret. Attenzione. Raccamani. La palla resta lì. Incredibile ragazzi. È assurdo. È assurdo. È assurdo prendere questi gol. Osiman. Caciuste. Ancora Mazzocchi. Palla per Ngong. Scende Ngong. Ngong è dentro per Maradona. Che non riesce ad arrivare su questa palla. Tra una rilanciare lungo. Attenzione. Olivera. Palla per Raspadori. C'è il Canggissa. Maradona. La parata. Ancora di Canna ragazzi. Dentro per Mazzocchi. Osiman. Maradona. Ancora non ci credo ragazzi. Quanti tiri abbiamo fatto. Quanti tiri abbiamo fatto. Con Canna che ha sempre e comunque parato. Salah prova ad andarsene. Torna addirittura anche Maradona. Che recupera questa palla e dà Giacomino Raspadori. Scende Raspadori. Raspadori è dentro per Vittor Osiman. Che va da Madiego Maradona. Che cerca qualcuno in mezzo. Attenzione. Gong per Osiman. Non riesce a tirare. Incredibile ragazzi. Incredibile ragazzi. Provano a rilanciare Devils. Con Pasquale Mazzocchi. Prova a metterla dietro. Arriva Caciuste. Che cerca Ngissà. Che allarga per Giacomino Raspadori. Scende Raspadori. Attenzione Raspadori. Raspadori. Diplink di Raspadori. Che va da Maradona. Che perde questa palla. Ci siamo ingolfati ragazzi lì. Olivera. Palla per Angissà. Dentro per Raspadori. Che cerca Maradona. Va da Osimena. Allarga per Raspadori. Entra Raspadori in aria. Dentro. E ancora Canna. A salvare tutto ragazzi. Ancora Canna a salvare tutto. Racamani. Proveremo il solito gioco. Maradona andrà verso Amir Racamani. Palla troppo sul portiere. E infatti Canna. Recupera facile questa palla. Attenzione. Maradona. Impressione. Spassano loro. Finisce qua. 3 a 2. Per il Manchester United. Ragazzi. La perdiamo completamente in maniera immeritata. 14 tiri in porta. Ne segniamo solo 2. Alla fine vincono loro. Veramente. 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 Un risultato che fa male. Va io. Perché non ce lo meritiamo. In tutto questo. Perdiamo 22 punti. E ci vediamo. Alla prossima puntata. Ciao. Ciao.